Notevole! Hai potenziato la tua armatura! Anch'io ho fatto delle migliorie! Wow! Mi prendi in giro con quella velocità di decollo? Ehm, ci vuole un po'. Ma ti prenderò! Sei sicuro? Voglio dire, hai mai volato con quel coso prima d'ora? Non esattamente. Ma ti assicuro che è migliore della tua in tutto. Oh beh, se mi dici che è migliore, allora dovrei arrendere immediatamente... Oh, missile anticarro! Attento! Questa è una nuova marca di dute! Quindi l'hai ucciso? Sì, voglio dire, così avrebbe dovuto farlo Pepper al posto mio. Così ho deciso di prendermi tutto il merito. Questo è arrogante e apprensivo! Ma comunque l'hai fatto fuori. È parecchio malvagio. Voglio dire, conoscevi quel tizio da sempre. Ha cercato di uccidermi due volte! Non è ovvio che se mettete i vostri super cattivi in prigione, loro semplicemente giurano, vendete e le vadano ancora. Beh, non è mai successo. Quindi, dopo cosa è successo? Beh, ho indetto una conferenza stampa e ho detto al mondo che sono Iron Man. Cosa? Perché? Non puoi dire in giro la tua identità segreta! Perché no? Io l'ho fatto ed è stato fantastico! Quindi, alla faccia tua! Ma non puoi! Voglio dire, non dovresti farlo! Eh, dammo le attenzioni! Volete dirmi che non avete mai rivelato la vostra identità segreta prima d'ora? Ehm, no! Ha! Ricorda tutte le ragazze con cui sei uscito! Cosa? Oh, sono Bruce Wayne e mi piaci! Lascia che ti dica il mio segreto! Oh, proprio tu parli! Mister, ti cancello la memoria! Oh, non ci provare! Ti congelo la faccia col mio soffio congelante! No, non lo farai! Hai ragione, non lo farò! Adoro questa ragazza! Batti il 5! Ma sai che avrei potuto metterti al tappeto con quel 5? Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Non è una gara! Perché se lo fosse sappiamo tutti chi vincerebbe! Io! Oh, ti prego! Ah, va bene! Sono Batman! Facciamo abbraccio di ferro, ti sfido! Ehi, perché voi ragazzi non mi chiedete mai di uscire? Ehm... Ehi, perché voi ragazzi non mi chiedete mai di uscire? Ehi, perché voi ragazzi non mi chiedete mai di uscire? Ehi, perché voi ragazzi non mi chiedete mai di uscire?